Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su questo nuovo gioco, un nuovo video di un nuovo gioco Nuovo, nuovo per modo di dire siamo su CSGO, questo perché farming diciamo non funziona tanto bene Siamo in compagnia di Energy, ciao a tutti ragazzi, forse siamo uno contro l'altro, questa partitina 9 minuti, io sono molto scarso, io me la cavo un pochino Energy invece se la cavo meglio, insomma vedrete le abilità di Marco, le poche abilità di Marco E niente, tanto per portare qualcosa di diverso sul canale, faccio divertire un po' perché questo catturisce la nostra ignoranza E' più totale, cercheremo di trattenerci al massimo perché Dall'imprecazione Eh perché qui ne partiranno veramente tantissime E niente qua, mi hanno dato fucile al cecchino Anche io al cecchino Sì, mi hanno dato fucile al cecchino Che posso No, 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 no Posso farmi Sono l'ultimo da top dei giocatori Terzo ultimo E sono perché ho Ho avuto un po' di Non trovo nessuno per quello Dove sei? Dove sei? Ecco Io non voglio fucile al cecchino Cavolo, mi metto sempre fucile al cecchino Eh, vado via con la doppia pistola No Beh, comunque gli ho dato 17 di danno Ancora questo fucile al cecchino Oh, ma cos'è stasera? Ehi, ehi, ehi Chi è qua? Eh sì, ciao, no Ok, ora è un'arma che ci ragiona E basta un maledetto cecchino Che mi faccia fuori Ok, ho avuto un'interruzione Ecomi qua No Che maledetto Allora Dove sei? Allora Se te lo dico Ci troviamo e ci ammazziamo Quindi meglio non te lo dica Cazzo, non è servito a dirtelo No, energia Beh, adesso so dove sei Guardate là No Eh, alle spalle non vale Faccio annullare la kill Comunque ragazzi Se volete Potete In qualche modo Adesso vedremo Mari di sabato Ci mettiamo a giocare E vediamo di 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 Maledetto Si è accovacciato Vediamo la tecnica Eh, dopo devo dire che no Devo fare mano Sono Anni che non Gioco Sti tipo di giochi qua E No Quindi sono molto scarso Energy Energy Marco Ahi, dove c'è tu? Sono sui tubi io Sì, ma guarda che roba Sui due colpi mi fanno fuori Sei sui tubi? Anch'io sono sui tubi Allora torno indietro perché li ho appena superati Stato Non ti vedo No Bastato Ai ai ai, sei morto Ci sono i miei compagni di squadra che mi sparano anche a me Allora qua mi dice che c'è un punto di domanda rosso Mmm Beh io sto sempre qua sui tubi allora così almeno E anche io sono qua sui tubi Forse Stannuto Eccoti, eccoti No No Quella Eh, cechino troverà paricaricare Sì, entrai contro di me Maledetto Ancora il cechino, che schifo Eh, cechino è veramente maledetto No No Eh, maledetto Ancora il cechino Ma mi danno ogni volta il cechino Sì, anche a me è capitato prima Tutte le armi che ci sono Eccoti No No Ciao energy Sì, spot, spot Eh, perché Tutte questione di armi Questo qua fa il one shot One shot, one shot Guarda, ho neanche visto No No C'era quell'altro Oh, stiamo arrivando in tre adesso Sì, eravate già in tre anche prima Eh, ma io prima ero morto da un'altra parte Siamo tutti riuniti qua in squadra Tutti qui riuniti per commemorare la morte di energy Ah, la morte di Marco invece Sì, ma Oh Maledetto Due colpi solo Un'ora che sparo Che mira che ho Eh sì Dai, io ero arrivato su YouTube adesso Sì, io ho il fucile al cechino Tanto vale Ho fatto un one shot Tanto vale vada via con Marco Ehi Dove sei? Dove sei? Where are you? Qua dai vc qua Dai Dove c'è il gabinetto Ah, dove c'è il gabinetto Ah, dove c'è il gabinetto Adesso Ah, anche io sono dove c'è il gabinetto Ecco, tipo arriva Adesso io sono dove c'è il gabinetto E io no Sì Le sicuro la Di altro che No Non te li ariti Però No, ancora il cechino Ma mi danno sempre il cechino Ma Aritela Do Sono sui giochi Adesso sono sui vc ancora Sì, adesso sono senza vita Te pareva Ecco ragazzi, abbiamo un gioco un po' così così Adesso siamo solo io e Energy Se Magari non ho quegli altri del team Anche perché Sì, perché ci siamo trovati a registrare tardi Ma è fin adesso che giochiamo Sì, e tu adesso che giochiamo Anche perché volevo prendere un minimo di mano Eh Per capire un attimo Eh Esatto Oh, ma sono tutti bravi in questa partita O sono io Cioè ho fatto 100 punti Sono tutti che se la cavano No Ma a star No Ho ucciso un V2 qua Ci sono certi ragazzi, veramente non ho parole Ecco Ecco Ti faremo Tipo questo Ti assaltano in una maniera che non ti lasciano nemmeno pensare Un trucco è anche abbassarsi quando ti sparano Sì però Un trucco è anche avere Avere il ping basso Perché Eh Eh quello sì Anche quello secondo me fa la differenza Aia Se uno ha ping Ecco Una ping a 30 a 40 E Mari Uno ce l'ha 12 Eh Quando si tratta di Di spari ravvicinati Eh È un altro Maledetto alle spalle Eh No Ma perché ogni volta che mi uccidi mi compare Cicchi Mamma mamma Su comparso ancora in top giocatori Suo ultimo Una maledizione Ah rete quaderno Ah però con colpo ti ho fatto 64 di danno però Eh sì Eh sì Ok non sono più ultimo adesso Olle 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 Dove siete? Dove siete? Eh c'è troppa gente qua Eh sento spari dietro io E sto andando alla parte opposta Eh Madame Scusate ragazzi ma qua No Beh questo qua Adesso quello davanti te mi inclassifica Arritte No Ah 33 con un colpo Eh sì Mamma adesso eh Mamma adesso eh Stai fermo lì Che arrivo Ok boh sto farò qua io Sì non mi ricordo più dove ti ho trovato però Eh sono appena morto Erano in due eh terroristi contro di me Boh dove sei vicino Sono vicino ai vicini Ok Nooo Nianco in co Eh ce ne sono tre vicini la Sono ai vicini Maledetti si qua che spawnano Viene ai vicini Sì non mi ricordo più dove sono Sì non mi ricordo più dove sono Sì non mi ricordo più dove sono Ok sono i vc Ok Incontro Incontro con i nc potrebbe essere molto ravvicinato Eh mi hanno ucciso con uno che appena faunato maledetto Ok Ok sono di nuovo i vicini Sono di nuovo i vicini Marchino Nooo finita partita Adesso che mi stavo divertendo Guarda che schiappa 13 kg e 21 morti Una roba assurda Io 20 e 19 Vabbè ragazzi tanto come questo primo video giusto per assaporare un po' il gioco Sì una pre 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 Andiamo a Venezia Andiamo a Venezia E facciamo un altro video a Venezia Ok All rights Noio Grazie.